Minestrone invernale vegano. Il minestrone invernale vegano è una ricca e nutriente minestra di verdure tipica della cucina italiana che fa bene alla salute. Una portata completa, saporita e riempiente, ideale come piatto unico invernale. Inizia preparando gli ingredienti che ti serviranno, cavolo verza, zucchine, patate, ceci, carote, porro, sedano, pomodori, prezzemolo, basilico, olio extravergine d'oliva, sale marino integrale e pepe nero. In una pentola capiente versa l'olio extravergine d'oliva e fai soffriggere il poro a fettine sottili. Aggiungi poi le verdure tagliate a pezzetti, miscola e aggiungi anche i cei. Fai cuocere per qualche minuto, aggiungendo un mistolo di acqua calda. Unisci quindi i pomodori a dadini, regola di sale e pepe, copri con un coperchio e lascia cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti. A cottura ultimata, versare nel minestrone le foglie di basilico e prezzemolo tritate. Distribuisci nei piatti e servi caldo.